Vi saluto Vecislav Katliarov, nella città di Kharkov. Oggi 3.20 del mattino, 19.04.2017. Questo filmato è la mia grande opera propagata nel tempo debito. L'informazione resa pubblica sarà scioccante, compresi tutti quelli che con una certa tranquillità comprendono la nostra esistenza fisica, fatta nelle forme di celle. Ci si può porre la domanda. Perché un anno fa l'informazione non è stata rivelata al pubblico? Suppongo, entrai nello spazio mediatico della porta sbagliata, presumo che l'informazione sarebbe stata ignorata. È stato fatto in modo tale che la dimostrazione del video sarà resa a migliaia di persone. Praticamente, un anno fa ho messo nella rete il mio primo video con il nome «Qual'è la nostra terra in realtà?», dove vi confidavo il nostro reale ordine mondiale. Oggi, quasi le 8 del mattino, in città di Kharkov, 25.04.2016. E ora tratteniamo il respiro. Il nostro pianeta è un centinaio di migliaia di volte più grande di quello che possiamo immaginare. È vero, il nostro pianeta è sferico, ma il suo territorio è incredibile. Su questo territorio si trovano centinaia di migliaia di terre, generalmente cinte da un muro di ghiaccio. Se osserviamo il nostro pianeta dallo spazio, si presenta come le celle di un alveare, cioè in ogni delle celle si trovano delle terre. Passato un anno, interesse alle mie conoscenze, in verità alle nostre conoscenze, non è stato smarito, anzi, è aumentato decine, anzi, centinaia di volte, probabilmente migliaia. In questo video vi presento la vera mappa del nostro mondo. Entrate in sintonia con uno stato d'animo serio. Concentratevi, perché l'informazione di seguito colpirà le menti più talentuose della nostra cella. Si parte. Dal principio vorrei ricordarvi la spedizione nazista degli anni 40. Questa leggenda ci è stata raccontata spesso. I rappresentanti della Germania nazista si sono recati nelle terre sconosciute per mezzo di sommergibili. E a giudicare dalle mappe loro hanno raggiunto la meta. Qualsiasi periodo, cartografo, ingegnere, meccanico, senza molta fatica comprende la veridicità della documentazione. Le mappe sono datate 1943. Riprendiamole più avanti. Per ora le mettiamo da parte ed incominciamo ad osservare la mappa, che non è la mappa della terra piata. Questa è la cartina della proiezione azimutale. E qua ci aspetta un momento cruciale. L'America del nord e del sud, cosiddetto continente, non esiste. Vi è stato disegnato. E perché? Perché serviva per riempire lo spazio vuoto ed inventare la scienza falsa per spiegarci incongruenze. Vi hanno inventato un gran numero di spazi d'acqua. In realtà, la terra ferma è piuttosto vasta. Più di quando possiamo immaginare. E ora, stimato ascoltatore e spettatore, osserviamo insieme la cartina del nostro mondo. Grazie. 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 Oh sì, sì. Assolutamente così, stimato spettatore. Si presenta la Ciela Nostrana. La locazione della casa nostra. Probabilmente quelli che hanno visto i miei filmati diranno «Fermati! Ci avevi spiegato che quelle terre ci trovano in altre celle». Studiando le mie opere, al massimo si conclude che io ho disegnato le terre ferme nelle celle vicine. Però vi è sempre detto che si trovano vicine tra loro. Ma andare in onda questo video prima di divulgare la conoscenza alla gente è stata una attesa necessaria. Le terre esistono e si possono raggiungere a livello fisico e con una facilità tale paragonabile a come possiamo raggiungere le isole più vicine. Il Titanic non è affondato. Ha tranquillamente raggiunto le terre vicine. Tutti i passeggeri sono vivi. Il triangolo delle Bermude, che vanta un 50% tra navi ed aerei scomparsi, in realtà hanno raggiunto le terre vicine. Olaf Janssen, dal romanzo «Dio fumoso», che racconta di un pescatore e suo figlio che hanno visto quelle terre. Il protagonista leggendario del romanzo «La terra di Sannikov» ha raggiunto le terre nominate. Ogni dopo, i nazisti hanno fondato una colonia su queste terre. L'ammiraglio Bern, come i suoi uomini, è stato sconfitto sulle quelle rive. Effettivamente, ci sono abbastanza esempi che confermano l'esistenza di queste terre. Ognuno che possiede un mezzo di trasporto buono è in grado di raggiungere queste terre senza alcuna fatica. Via acqua, via aria o aggirando, perché i nostri continenti immaginarii, Australia ed Africa, confinano con il polo antartico. E per quelle persone che non lo sanno, l'Antartide non è di ghiaccio. L'Antartide è composto da roccia e sabbia. Tranquillamente, possibile raggiungere le terre utilizzando il cerchio interno, fisicamente. Ora, ci stiamo avvicinando alla scoperta importantissima nella storia dell'umanità degli ultimi duecento anni. L'iperborea esiste. Per Borea non è mai scomparsa. Gli occupanti non sono in grado di distruggere un posto sacro della nostra cella. Il Monte Meru si trova sempre nel centro. Esiste sempre il frasino Yggdrasil. Come nelle altre saghe, albero Jambudvipa. Gli uccelli ogni anno volano in queste terre per nidificare. Questo è un posto magico. Il posto della vita. Il posto della creazione perpetua. Per una persona semplice, la strada al di là è chiusa. Perché avvicinandosi al centro, si troverebbe nel mezzo del gelo polare. A questo punto, ho finito. Ora, cari miei spettatori, sappiamo perché l'aurora boreale esiste su circolo polare artico. Perché numerosi ricercatori contemporanei cercano in vanno di comprendere l'unità di Terra. Loro non sapevano, e non lo sanno, com'è il nostro pianeta in realtà. Adesso, permettetemi di accomiatarsi. Seguitemi nel video seguenti. E con voi, come sempre, Vyacheslav Kotliarov. Mille grazie per l'ascolto. Vi auguro il meglio fino al prossimo incontro. Grazie per l'attenzione. Che sia il meglio. Mille grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.